Come noi l'albero cambia è la metafora della vita e al tempo stesso il titolo emblematico della performance teatrale e musicale che nasce a conclusione del progetto Piano delle Arti e Teatri in Rete. È stata costituita una rete formale fra tutti gli istituti che hanno all'interno della provincia un corso di educazione musicale, di strumenti musicali, ma la rete è stata realizzata a più livelli fra noi dirigenti ma anche una rete che ha visto coinvolgere e lavorare insieme i docenti delle scuole, i docenti di strumento, di educazione musicale ma soprattutto i nostri ragazzi e le nostre ragazze che si troveranno a creare un unicum, e quindi un'orchestra nuova e diversa insieme ai propri compagni e compagni di tutta la provincia e quindi insomma è un prodotto assolutamente unico e originale e per noi molto bello. Le scuole attraverso laboratori teatrali tenuti nei vari istituti hanno prodotto collettivamente il racconto, il filo narrativo dello spettacolo. La musica è stata riarrangiata dal professor Milani che è della scuola media Cisalpino, i testi teatrali che verranno recitati o letti, sono stati scritti dai ragazzi supportati dalle associazioni teatrali del territorio e poi si è costituita un'orchestra formata dai ragazzi di tutte e otto le scuole che è diretta da un nostro insegnante del liceo musicale, il professor Tiezzi. Tre gli appuntamenti in programma. Andranno in scena questo fine settimana a cominciare da venerdì sera al Teatro Antei di Prato Vecchio alle ore 20 e 30, poi il sabato alle ore 21 al Teatro Petrarca di Arezzo e la domenica pomeriggio al Teatro Masaccio di San Giovanni.